Buongiorno ragazzi, sono Giacomo e diventerò milionario in 6 anni. Ora è 10.15, è il 11 aprile 2022, siamo nella settimana che ci porterà Pasqua, ma noi non ci fermiamo mai, non andiamo sempre avanti, noi siamo sempre carichi e solitamente il weekend ci porta sempre qualche intuizione, qualche innovazione. Questa volta devo confessarvi che non ha fatto eccezione, perché sono successe delle cose veramente interessanti a livello di riflessioni, ma adesso ve ne vado subito a parlare. Allora, cosa è successo? È successo che stavo riflettendo e vi dirò che comunque l'investimento di 3.900 euro, per il quale ancora tra l'altro non ho sentito nessuno, quindi è firmato una settimana e mezza, fa ancora boh spariti tutti, speriamo bene, mi ha veramente aperto un mondo e mi ha fatto capire che per fare il botto, per fare la svolta, bisogna iniziare ad investire soldi, cosa che avevo già fatto quando ero più giovane e più inesperto, ma come lo facevo? Lo facevo che partivo con delle campagne Facebook totalmente senza senso, senza utilità, pagavo, giusto per avere delle redirezioni, un articolo, mi ricordo ancora che l'ho fatto per l'articolo sull'auto elettrica, se conviene o se non conviene, e la mia idea era quella ovviamente di portare persone sul sito, farle affizionare al canale, tutto quanto, farle cliccare sulle pubblicità, eccetera, eccetera. In realtà quello che ne è emerso, che mi ha sempre colpito, me lo ricorderò per sempre, è stata una discussione inutile, assolutamente sterile, su Facebook, quindi neanche commenti su blog che potevano portare del traffico, potevano portare Google a dire, guarda che bello articolo, che lo stanno commentando tutti, no no, su Facebook commenti di odio, non dico di odio, ma di ignoranza nei confronti dell'articolo, perché le auto elettriche sono il futuro, quello che ho scritto era sbagliato, bla 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 bla, oppure degli odiatori, degli odiatori, quindi non che mi dessero ragione, ma che odiavano quello che dicevano gli eters, quindi è stata veramente una cosa assurda, e da là ho capito che appunto investire dei soldi in campagna non ha nessun senso, no, però niente, ho abbandonato totalmente la modalità investimento in quello che serviva Giacomo, perché ho detto, boh, sai cosa, me lo faccio da me, ci vorrà più tempo, ma non importa almeno, non ho dubbi che le cose funzioneranno, sarà tutto organico, sarà tutto naturale, ma almeno arriverà per il sforzo mio, per il lavoro mio, questa cosa qua me la sono portata avanti fino a qualche settimana fa, dove appunto è avvenuto questo cambiamento, questo switch, che mi ha fatto capire che, ora che ho bene o male ben chiara l'idea di quello che sto per andare a fare, bene o male ben chiara l'idea di quello che mi serve per andare a prendermi i risultati, posso effettivamente iniziare ad investire, perché? Perché ad esempio so che, ok, il blog adesso ha un po' di fama, possiamo dire così, cioè viene trovato spesso, quindi posso spingere in quel senso là, facendo, comprando dei spazi, devo fare un guest post mio, quindi con link che portano al blog, oppure comprando posizionamenti o comprando studi di marketing che mi facciano capire come è messo il blog. Numero due, che è la cosa che mi interessava di più, è spingere un po' al canale YouTube, perché ragazzi effettivamente esistono delle persone che tu paghi e ti fanno arrivare a 1000 iscritti, così nottetempo, senza nessun problema, senza nessuna lamentare da parte di YouTube. Quindi sabato cosa mi sono detto, ho detto, boh, però potrei effettivamente guardare quanto costa, quanto non costa, però ha senso, non ha senso, non lo so, lo faccio, non lo faccio, però poi magari mi banno. Ho detto già, guarda, provaci tanto, la cosa che mi ha spinto a farlo è che già, se notate, su molti dei miei video c'è già la pubblicità, e leggendo in giro, ascoltando diverse fonti, questo fatto è molto positivo, perché vuol dire che YouTube già ha dichiarato quei video interessanti, quindi vuol dire che alcuni video sul mio canale YouTube li monetizza perché le repute interessanti, quindi teoricamente quando svolterò, quando arriverò a 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione, riuscirò anch'io a monetizzare, però quanto manca, arrivare a quel punto, la manca una varanga di tempo, cioè la cosa brutta è che io già adesso potrei monetizzare quel video là perché so che YouTube li sta facendo. La cosa figa, appunto, potrei iniziare a parlare anche delle monetizzazioni di video YouTube, che è una cosa bellissima, però mancano due aspetti fondamentali, ovvero i 1000 iscritti e le 4000 ore di visualizzazione. 1000 iscritti siamo a 3, fino a sabato, eravamo a 384, fino a sabato eravamo a 2000 ore di visualizzazione. Cosa è successo? È successo che effettivamente ho detto, beh ma ascolta, se io mi compro 1000 iscritti e mi compro le 4000 ore di visualizzazione per iniziare a monetizzare, perché non dovrei farlo? Alla fine ho analizzato pro e contro di tutta la mia riflessione, sono arrivato al punto di dire, va bene, ma alla fine il contro di avere 1000 iscritti comprati è che tu hai 1000 persone che non sono fidelizzate al tuo percorso, cioè che se tu rilasci un video se ne fregano e tu non le monetizzi, quindi in realtà hai 1000 iscritti, però quelli che ti vedono i video sono molti, molti, molti meno. Questa cosa qua mi è sempre frenato, però dopo la riflessione che ho fatto sabato, ho detto, ma chi se ne frega? C'è tanto che io abbia un iscritto che abbia 1000 iscritti. Comunque i video vengono visti da un sacco di persone che magari non si iscrivono perché si sta andando verso un comportamento che non vale più la pena iscriversi, tanto YouTube ti sottopone tutto quello che hai bisogno e di conseguenza a me il fatto di sapere che devo arrivare a 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione mi sta sul cazzo, perché? Perché io già adesso so che pochissimo è per carità, però i miei video li potrei monetizzare, perché se fino a prima tu dicevi arrivo a 1000 iscritti e 4000 ore così almeno capisco come funziona il mondo di YouTube, capisco che i miei video sono sensati e YouTube vede che sei una persona che ci sa fare. Io so che ci arriverò, è come arrivare al migliore, non so che ci arriverò, però se una cosa posso svilupparla un po' più velocemente, perché non fare fino a un investimento in termine di denaro che ti svolta veramente la vita in termini di tempo, no? Quindi cosa ho fatto già? Sabato pomeriggio, dove ho mangiato e ho detto beh, andiamo a vedere qual è l'offerta di questo tipo di servizi. Sono andato su Fiverr e non si trovava più nulla, sebbene avessi visto alcuni video delle persone che compravano su Fiverr questo tipo di servizio, o non si trova più nulla, almeno non in maniera chiara cercando 1000 iscritti YouTube, quindi, boh, abbandonate, vabbè, sarà una cosa scamuffa, non si potrà fare, amen. Poi però ho cercato su Google in generale e ho letto fuori un paio di persone che lo facevano su Appwork, Appwork comunque è affidabile, sono andato a vedere, ho studiato qua, ho studiato là e te lo offrivano questo pacchetto di 1000 iscritti a 100 dollari, quindi io con 100 dollari arrivavo a 1000 iscritti, quindi lo pagavo 10 centesimi iscritti, che è una cosa veramente ottima, considerato il tempo che ci sarebbe voluto per arrivarci. Quindi cosa ho fatto? Ci ho riflettuto un attimo, ho guardato un po' in giro, ho cercato informazioni, ho visto che effettivamente attualmente, almeno, non ci sono troppi problemi a riguardo, ho detto, beh, sai cosa succede? Cosa succede? Cosa succede che chi sia in cula? Prova a farlo e vediamo che succede. Ho comprato il pacchetto di 100 dollari, ragazzi, e partivo da 380 iscritti, mi sembra, e niente, ieri dopo 24 ore avevo già 1300 iscritti, una cosa assurda, nomi ovviamente tutti arabi, inglesi, eccetera, eccetera, però ho superato la soglia dei 1000 iscritti facendo questo tipo di pagamento qua. Adesso mi manca ancora raggiungere le 4000 euro di visualizzazione, che è un altro pacchetto che comprerò di modo da riuscire a superare anche quell'impedimento, quella barriera di ingressola, però una volta che poi l'ho fatto, sarà interessante vedere in quanto tempo riuscirò a rientrare dell'investimento semplicemente tramite video che andrò a fare su YouTube e che potrò monetizzare già da subito. Questo, per quanto poco, mi spingerà a fare di video che saranno sempre migliori e sempre studiati in maniera più intelligente a livello di SEO, perché alla fine di questo si tratta, ragazzi, di farsi trovare. È un po' come scrivere gli articoli su Google, tu li scrivi, hai un tool che si chiama Yoast SEO di Word, perché vabbè non sarà il top del top, però ti dà l'indicatore, guarda che stai scrivendo una stranzata, guarda che stai scrivendo una cosa giusta, sempre ovviamente riferito a una parola chiave che tu imposti, quindi non è che ti dica a lui cosa scrivere dell'argomento, quindi tu fai una ricerca sulla parola chiave e da quella capisci se l'articolo che stai scrivendo ha senso pur o no, ma senza dilungarci troppo nei ragionamenti che faccio quando vado a creare dei contenuti, la cosa bella è che adesso potrò monetizzare, appena ovviamente mi arriveranno queste 2000 ore, potrò monetizzare il canale YouTube, che è una cosa che fino a una settimana, anche tre giorni fa, solo a pensarci, mi diceva cavoli, ma chissà quando ci riuscirò, sarà giugno, sarà dicembre, non lo so, devo continuare a fare video, continuare a perdere tempo qua, non capisco, cioè devo dire vabbè, ma ti serve, no, perché impari, più fai, più fai video, più ne sbagli, più fai qualche scritto e arrivi a mila. In realtà, ragazzi, voglio partire subito così, se si può fare, pagando, perché no, che mettessero un limite di contenuti, magari che tu puoi, che non puoi comprare, no, in quel caso là, vabbè, dico, vabbè, mi sporco le mani finché non arriva, ma c'è una cosa che si può ottenere in maniera quantomeno lecita, perché non fare alla fine il nostro percorso, finora si è rivolto solamente al risparmio e all'investimento, però, appunto, sì, al guadagno e al risparmio all'investimento in termini di azioni, ETF, quindi strumenti finanziari di quel tipo là, adesso direi che è arrivato il momento di alzare il tiro, iniziare a parlare di investimento anche in termini di spingere di più sulle nostre offerte, perché iniziano a rendere, quindi che non rendano, perché abbiamo deciso di investire il nostro tempo invece che mettere a rendita il nostro denaro, in quel caso là, ragazzi, quei 100 dollari, ok, avremmo potuto rendermi il 10% all'anno per TOT, quindi quant'è il 10% di 110, chiaramente, no? Se io quei 100 dollari rispetto per arrivare 1000 iscritti e mi rendono più di 10 dollari all'anno e in aumento, perché appunto inizio prima, quindi la palla di neve parte ancora prima, vuol dire che il mio investimento è stato ancora migliore, fermo restando che ovviamente il 10% è sempre utopico e storicamente accettato come il rendimento medio di 20 anni, che però, vabbè, poi togli tutto, togli inflazione e bla bla bla, inizia a renderti sempre meno, facciamo un 6%, comunque, se questo investimento mi spingesse a rendere 30 dollari all'anno, vuol dire che rientrerà in 3 anni e tutto il resto sarebbe guadagno, quindi è una cosa veramente interessante, ma la cosa ancora più bella, ragazzi, oltre a questi conti fatti così a cazzo al momento, che potrebbero trovarvi d'accordo oppure no, la cosa interessante sta nel fatto che adesso, come tutto quello che ho fatto e quello che farò, posso parlarne con cognizione di account, cioè a posto di ragazzi, si può arrivare tranquilli, facile, a 1000 iscritti, non c'è nessun problema, basta pagare, e questa cosa potrebbe sembrare diversa, ma in realtà è un, secondo me è un suggerimento molto migliore di quelli che si possono trovare tipo, allora parti, fai un video, no, allora spendi i soldi, se non hai voglia di spendere i soldi, hai già capito che o non hai voglia di credere abbastanza nel progetto, in quello che fai, quindi non aver voglia neanche di migliorare, oppure è un indicatore del fatto che comunque quello che stai facendo non ci credi neanche tu, cioè non ti interessa a livello di guadagno, ti interessa a livello di magari crescita personale tua, quindi ok, lo faccio un canale youtube, non mi interessa al momento monetizzare, lo faccio solo perché mi piace, allora ci sta, se invece la butti tutto sul guadagno, tutto sul denaro, tutto sul voglio avere una rendita, un'ennesima rendita, tra virgolette passiva, allora vabbè, ha senso buttarla a questi 100 dollari, più un'altra offerta che non so di quanto sarà per arrivare a 4 mila ore di ascolti, ma adesso vado a capire quanto sarà e arriveremo alla nostra ulteriore fonte di monetizzazione, fermo restando che spero che youtube accetti la mia richiesta perché magari va a vedere e dice cavoli questo qua però, canale italiano, ha solo iscritti italiani, da un certo punto in poi ho avuto mille iscritti taiwanesi, magari qualche dubbio mi viene però, sarà interessante capire anche quello, o male che vada a chiudere il mio canale e ne aprirò un altro, nel caso vuoi che ti dica, tutto fa esperienza, tutto fa contenuto, tutto fa valore, valore mio, valore che posso condividere, quindi voi non dovete sporcare le mani per questi 100 dollari, magari per scoprire che per la fine non potete monetizzare il canale, io lo farò, quindi adesso vado appena alle 4000 ore, faccio la richiesta e vediamo di iniziare a monetizzare, vediamo di iniziare a guadagnare anche questi 4 spicci da youtube e dare un senso a tutto quello che stiamo facendo sempre di più ragazzi, perché noi abbiamo capito che abbiamo fatto la svolta qua, si sta veramente cambiando marcia e sono contentissimo perché si sta cambiando marcia, si sta cambiando mentalità, quindi questa veramente è una figata che mi sta esaltando tantissimo, fermo restando che ovviamente cosa succede? Quando inizi a far lavorare i soldi, da investire i soldi, è difficile mantenere i piedi per terra, quindi è difficile dire ok, io continuo comunque a fare quello che stavo facendo che mi porta a un guadagno e nel frattempo investo i miei soldi, perché? Perché se proprio dire, boh ho speso i soldi, vaffanculo, mi trovo altro da fare, tipo sabato sera sono uscito in aperitivo e la cosa bellissima è che continuavo a guardare a youtube, continuavo, ho guardato 3 volte l'app di youtube, ho passato di più 300, 500, 700 iscritti e il sapere di aver speso 100 dollari per avere qualcuno che lavorava a un obiettivo preciso, mentre io non stavo pensando al lavoro, veramente è una cosa liberante in maniera assurda, soprattutto non è che qualcuno stesse facendo qualcosa che potevo fare io, ma che ho rinunciato a fare per andare in aperitivo, non è che ho detto oggi devo scrivere un articolo, però non ho coglioni, voglio andare in aperitivo, quindi pago 100 dollari per qualcuno che me lo scriva, no in quel caso è ovvio che me lo scrivo io, perché di sì, non sono ancora al punto nel quale posso fare il cazzo che mi pare, però dovendo delegare qualcuno che sa farlo e qualcuno che ti sa dare un riscontro numerico preciso, chiaro che là l'investimento diventa veramente interessante, sono proprio contento di averlo fatto, quindi ragazzi se adesso andate a vedere gli iscritti al canale youtube di diventerò milionario, oh abbiamo superato i 1200, 1300, anche perché poi è stato bello perché è arrivato al suo alla grande e poi è iniziato a calare, quindi proprio secondo me li calibra precisi, non ho idea di come faccia, ma insomma è successo, quindi sappiate che se volete arrivare a 1000 iscritti, tempo 24 ore, ce l'ha fatta, se volete mandarmi una mail, vi giro il link del tipo che me l'ha fatta, affidabile e speriamo bene, speriamo di monetizzare, ma sono assolutamente fiducioso, quindi ci aggiorneremo nei prossimi giorni a questo riguardo, perché voglio vedere come funziona, anche perché se tutto funziona nulla vieta che si possa tipo iniziare a dire ok, 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 allora mi faccio fare un canale da zero, che sono cose che fanno, canale da zero, più 20 video motivazionali, più 1000 iscritti e magari un'ottimizzazione SEO e magari quello che viene fuori è una cosa interessante che ti porta a una rendita passiva, ma è un passaggio ulteriore che ancora non ho voglia di contemplare, perché adesso devo stare stretto stretto su quello che sto facendo adesso, comunque solo per aggiornarvi ragazzi di quello che è successo nel weekend, si continua ad investire, ma adesso si investe con la testa sulle spalle, avendo un obiettivo ben preciso, tra l'altro vi lascio con questa riflessione, perché stamattina sono andato su Google AdSense, non per guardare i miei guadagni, ma per guardare, che comunque sono già a 20 euro, ma per guardare qualche articolo del blog loro che parla degli AdSense, per vedere appunto, come vi ho già detto, se posso proporvi per scrivere un ghost post, no, un guest post che porti il link al mio sito, quello sarebbe proprio grasso che cola a livello schifoso, cioè avere un backlink da Google è proprio l'ultra top, no, però mi sono perso vedere che alla fine su una pagina ad un calcolatore che ti dice, guarda, se tu sei in questa nicchia, sei tu e fai questo tot di visualizzazioni, hai questo guadagno, e io ho pensato, cavoli, effettivamente io ho un numero di visualizzazioni che è 12-15 mila al mese e guadagno, nell'ultimo mese ho guadagnato 70 euro, ok? Se io riesco a decomplicarlo, se io riesco a scrivere articoli anche magari a farlo per 5, ma scrivere articoli che sono veramente targetizzati, veramente top, che mi restano in pole position per un sacco di tempo, e va proprio lì, ho fatto bingo uguale, quindi anche là avrebbe senso dire, ok, ma ha senso iniziare ad investire sul blog, iniziare ad investire su fare degli articoli mirati, delle campagne, delle ottimizzazioni, quindi sto veramente iniziando a ragionare in un modo totalmente, assolutamente diverso, che mi piace un sacco. È pericoloso, perché vuol dire investire veramente tanti soldi, però la cosa bella che mi fa riflettere è che quello che sto facendo è investire un sacco di soldi e fino a un anno fa non l'avrei fatto. Quello che mi piace è che fino a un anno fa non avevo idea di cosa stavo facendo, ora sì, e soprattutto spendere un sacco di soldi o investire un sacco di soldi, dipende dal punto di vista, è una cosa che può scoraggiare molti, quindi questo mi pone sopra a molte, molte, molte altre persone che magari non investono perché non vogliono crescere, hanno paura di non sanno come fare, oppure non lo fanno perché dicono mi arrangio da solo, quindi mi ci vorranno sei anni invece che un mese come può, risultati che può ottenere Giacomo adesso, però chiaramente non ci può arrivare se non tramite una serie di esperienze, di riflessioni che sto facendo io in questo periodo. Quindi ragazzi, con questa riflessione, questi progetti futuri e progetti anche presenti e passati sugli investimenti, perché alla fine se spendi, spendi bene, i risultati ti arrivano tempo quasi zero, c'è 24 ore, da sabato pomeriggio, domenica pomeriggio, 1000 iscritti YouTube, è una cosa che per chi ha un milione di iscritti, vabbè, si sciacqua, si sciacqua le mele, ma per uno che sta partendo, dire 1000 iscritti, 24 ore, wow, sono tantissimi, quindi non dico di fare questa cosa partendo da zero, perché effettivamente bisogna arrivare un po' a capire che si possono creare dei contenuti sensati, magari partire, vedere quanto qualche video supera le mille visualizzazioni, dire, va bene, dai, ci provo, mi butto, tanto so che andando avanti, quello che farò sarà sempre migliorare e investo in questo modo qua, quindi questi sono i miei consigli, ragazzi, fatemelo sapere via mail, info, chiocciola, diventerò milione.it, sul gruppo Telegram diventerò milione.it, slash Telegram, sono Giacomo, diventerò milione in sei anni, siamo arrivati a 1000 iscritti di YouTube, ci sentiamo domani, ciao, ciao.